Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto per una nuova puntata del Cartotto Educational un Cartotto Educational targato UNESCO. E perché vi dico questo? Giro la mia schiena, voi mi perdonerete, ma devo farvi vedere questa bellezza. Il punto in cui mi trovo si chiama Balcone Dolomiti UNESCO. Come possiamo osservare, ora mi metto proprio dentro, eccomi qua. Se notate il Balcone Dolomiti UNESCO sostanzialmente mi cinge, mi avvolge in un semicerchio che commenta proprio a mo' di balcone non solo il massiccio delle Dolomiti, ma in realtà volgendo lo sguardo un pochino più in là riusciamo anche a scorgere la marmolada. Bellissimo, chiaramente un colpo d'occhio mozzafiato. Qui siamo sull'Alpe Tognoli, Siamo in alta quota, ci troviamo come da orologio a 2.026 metri, diciamo oltre i 2.000 metri. Ebbene, qui stiamo nuovamente calcando anche i sentieri della Grande Guerra. Perché sulla catena del lago Rai, che si trova idealmente laggiù, dove ora, hop, sto indicando, dove l'operatrice sta mostrando, in un precedente video vi ho accompagnato a visitare gli stoli, cioè le trincee, prima guerra mondiale. Qui in realtà il colpo d'occhio è straordinario, perché siamo davanti alle tre pale di San Martino. Ecco tutto, vi invito quindi alla visita del Balcone delle Dolomiti, ancora un caro saluto a tutti da Andrea Cartotto e appuntamento a presto. Ciao!